Buonasera e bentrovati per l'edizione delle 18 del TGL News. In primo piano la cronaca mi tengono segregata in casa aiutatemi così una ragazza rumena di 16 anni alla polizia ha raccontato di trovarsi un appartamento in città a Piacenza di non poter uscire un uomo non la faceva infatti uscire di casa la squadra mobile tramite i tabulati telefonici e la localizzazione del cellulare l'ha rintracciata e arrestato un 28enne per violenza privata. E' in corso proprio in questi minuti la conferenza sociosanitaria in provincia per l'approvazione del nuovo piano spedaliero da parte dei sindaci dei comuni un piano però osteggiato da alcuni comitati e soprattutto da alcuni piacentini che dicono no ai tagli. No ai Guadinalvio in alternativa al ponte sul Trebbia che rimarrà chiuso per lavori di manutenzione è questa l'ipotesi che è stata appunto scartata dal tavolo tecnico che si è riunito questa mattina in provincia. Migliora la situazione del mercato del lavoro piacentino nel 2016 lo dice l'Istat secondo il quale cala la disoccupazione e aumenta l'occupazione del 2%. Tra le possibili cause della caduta del deltaplano a motore di ieri pomeriggio costata la vita al pilota il piacentino Luciano Mazzocchi di 58 anni sarebbe escluso l'errore umano. Si tratterebbe invece di malore oppure guasto meccanico secondo la procura che ha aperto un'inchiesta. Queste e altre notizie nell'edizione delle 19.30 del nostro telegiornale su Tre Libertà. Noi ci rivediamo invece per i titoli delle 19. Grazie e buon proseguimento. Grazie.